Scusa anche per la tv tedesca, grazie, in italiano anche, ma come si sento con questo premio? Molto bene, good, certamente, sono molto felice, non me l'aspettavo, sono estremamente felice e sorpreso, per cui è una serata meravigliosa. Insomma, ma vincere proprio la benedetta che cosa significa? Significa tanto, perché venivo qui da studente, mi intrufolavo nelle proiezioni per vedere il maggior numero di film possibili, sono tornato come attore e quest'anno per la prima volta avevo un film in concorso da protagonista e vincere questo premio è un sogno, me ne renderò conto domani, credo. Quanto pesa? Tanto, prego, guarda, faccia un giro. Insomma... Aspetta che sto sudando, però è un peso che porto volentieri. Grazie. Grazie.